Due numeri, più 55% di flusso verso l'Italia e la necessità di trovare ulteriori 15.000 posti rivelata proprio dal Ministero dell'Interno. Qual è la posizione della Lega? Ma noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, questo è un problema importante europeo, è un problema che non può essere risolto solo da noi, non può essere risolto con gli annunci. Vi ricordate l'annuncio delle quote che dovevano partire dai migranti, dovevano partire dagli altri Stati europei, cosa che non è successa. Questo è un problema importante e purtroppo non lo risolviamo perché? Perché non facciamo selezione e soprattutto perché non c'è identificazione. Ci vuole più di un anno per identificare se una persona ha diritto ad avere lo status di profugo o no. È logico che gli altri Stati europei non si fidano di noi e cominciano a costruire le barriere. Noi diventiamo il primo Stato africano d'Europa. L'Austria minaccia di costruire barriere al Brennero. Secondo voi l'Italia dovrebbe costruire delle barriere a sua volta? Barriere dove? A Lampedusa? Purtroppo l'Italia dovrebbe smetterla di mandare le nostre navi della Marina Militare in acque territoriali libiche, quindi in acque territoriali di un altro Stato, a fare da tour operator e quindi andare a prendere i cosiddetti migranti, i cosiddetti profughi, direttamente sulle coste libiche. Questo è in auto. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe lasciarli? No, non bisognerebbe farli partire e bisognerebbe far sì che queste persone non siano agevolate e di conseguenza non agevolandole si eviterebbe tutte queste situazioni. Non si può pensare che dopo pochi metri dalla partenza e quindi dalla costa libica noi siamo lì già ad accoglierli. Succede solo da noi e soprattutto quelle navi europee che accolgono e che prestano soccorso, poi dove li portano? Tutti in Italia. Una nave finlandese o una nave francese presta soccorso e li porta in Italia. Chiarissimo. Chiarissimo.